Musica Rapine e pestaggi in casa, i danni di anziani indifesi, due arresti a Caltanissetta. Caltacqua rompe basole storiche e commerciante si trova nei guai. Caltanissetta protagonista, strisce blu a pagamento solo in tre parcheggi. Il comune premierà le idee degli studenti e le realizzerà. Un progetto e un cortometraggio che valorizzi il centro storico di Caltanissetta. La real maestranza, domani a Trapani. Settimana Santa in vetrina. Nelle prime ore di questa notte i poliziotti della squadra mobile Nissena, sezione antirapina, hanno tratto in arresto due giovani nissani. Il pluri pregiudicato Salvatore Samparisi e Andrea Iacona, entrambi di 28 anni colpiti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Caltanissetta David Salvucci su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta PM Sofia Scapellato con la quale è stata contestata ai due una cruenta tentata rapina aggravata in casa ai danni di una donna ultraottantenne gravemente malata. Le immediate indagini avviate dagli investigatori dell'antirapina a seguito della cruenta rapina hanno consentito di cristallizzare imprescindibili elementi probanti a carico degli arrestati fatti propri dall'autorità giudiziaria e di mettere in risalto agghiaccianti particolari dello scellerato modus operandi adottato. In particolare nel pomeriggio del maggio scorso a Caltanissetta in un condominio di via Alcide De Gasperi, Salvatore Samparisi in qualità di esecutore materiale in correità con Andrea Iacona in qualità di basista e attivo coadiutore poiché è residente nello stesso stabile della vittima si sono resi protagonisti del cruento reato. Samparisi si è introdotto con l'inganno all'interno dell'abitazione della donna strattonandola, percuotendola e quasi soffocandola mediante l'introduzione forzata in bocca di carta di volantini chiudendola poi nel bagno dell'abitazione ponendo la vittima in uno stato di totale incapacità di volere agire al fine di rapinarla. L'anziana è stata seriamente messa in pericolo di vita per l'intervenuto soffocamento e solo provvidenzialmente è riuscita con non poca difficoltà ad estrarre dalla bocca la carta dei volantini che Samparisi le aveva introdotto in bocca a forza e a spingersi fino al balcone per respirare. La donna, stremata anche a causa della sua grave cardiopatia è riuscita solo il giorno successivo ad avvertire la sua unica figlia che vive a Parma, raccontandole l'accaduto. A quel punto la figlia, inorridita per quanto subito dalla madre ha avvertito telefonicamente la polizia che recandosi a casa dell'anziana ha raccolto la denuncia della rapina. Gli investigatori, sentita la vittima, sono riusciti a mettere insieme i puzzle del complicato mosaico al fine di ricostruire l'aggressione. La donna, sottoposta di individuazione fotografica ha riconosciuto senza dubbio Samparisi come l'esecutore materiale della rapina e l'analisi minuziosa di alcuni filmati estrapolati da un sistema di videosorveglianza installato nei pressi ha consentito di individuare con certezza il basista Andrea Iacona durante le fasi salienti dello scellerato crimine mentre si adoperava per facilitare l'ingresso del suo complice nello stabile fornendogli anche abiti di ricambio al fine di eludere eventuali indagini. Salvatore Samparisi è un soggetto pluripregiudicato già segnalato per numerosi reati mentre Andrea Iacona, nonostante sia incensurato risulta ben inserito nel circuito di pregiudicati locali. Gli arrestati, dopo le formalità di rito sono stati condotti presso la locale casa circondariale a disposizione dell'autorità giudiziaria. Gli agenti della Polizia di Stato della sezione volanti di Caltanissetta coadiuvati dal reparto prevenzione crimine di Palermo nel corso dei servizi di prevenzione attuati nel centro storico di Caltanissetta in particolare in Via Rochester, Piazza Roma e Via Stefano Candura hanno proceduto al controllo di alcune cittadine straniere dedite alla prostituzione. Nei pressi della fermata degli autobus di linea extraurbana di Via Roce sterranno identificato quattro straniere di nazionalità romena tutte con pregiudizi di polizia a vario titolo per reati quali percosse, violenza privata, minacce atti contrari alla pubblica decenza, oltraggio a pubblico ufficiale e ingiurie. Per un paio di loro la divisione anticrimine della Questura valuterà l'opportunità di allontanarle con foglio di via obbligatorio con il divieto di fare ritorno nel comune di Caltanissetta. Tutte le prostitute sottoposte a controllo sono state allontanate dai luoghi dove stazionavano. I controlli sono proseguiti con posti di blocco delle pattuglie della Polizia di Stato nelle zone periferiche della città per la prevenzione dei reati predatori quali furti e rapine. In via Arco, Alessi, c'è l'attività commerciale della signora di Giugno. Purtroppo da circa una settimana sta avendo dei seri problemi. Per quale motivo? Perché la Caltarco ha dovuto fare l'impianto nuovo idrico e hanno dovuto smandellare ed è giusto che sia così. Il problema qual è stato? che loro hanno smandellato con i macchinari, con martello, non so, martello prenumatico e hanno rotto queste pietre. Queste pietre, per la sovrintendenza, sono pietre, chiamiamole archeologi, non lo so, antichi? Ok. Quando poi l'altro ieri dovevano rifare il rifarcimento, rimettere a posto le cose è arrivata la sovrintendenza e ha detto no perché queste pietre vanno messe ad incastro come era una volta ma le pietre sono rotte. E allora cosa bisogna fare? Fermare i lavori. Chi ha preso l'apparto che deve fare? Deve andarsi a precurare queste pietre andare da marmisti e ritagliarli per come erano prima. Mentre io ero non solo disagiata dalla polvere ma anche perché il passaggio era inangibile proprio. Ieri, gentilmente, diciamo gentilmente, abbiamo chiesto al titolare dell'apparto di sistemarci un po' per poter lavorare. In quanto io l'affitto lo devo pagare lo stesso, se chiudo. Allo Stato li devo pagare lo stesso. È da mangiare i miei figli anche. Anche se la città fa schifo in questo istante, ancora facciamo ancora più schifo. E si stanno a preoccupare delle chiavi. Ma quale chiave? Levatecela tutte le chiavi. È uno schifo proprio. Quindi le pietre di cui parliamo sono le basole per terra. Ora le hanno messo queste specie di travi di ferro? Sì. In quanto, per poter agire, cioè entrare... Però lei prima diceva se qualcuno cade e si fa male perché sono pericolose io non voglio responsabilità. No, questo è il comune, io non c'entro niente. Non è che la strada è di mia proprietà. Cioè io ho l'attività. Ma la strada è del comune. Se hanno dato l'apparto, se sapevano che questo era un centro storico, se queste pietre erano, come cacchio si chiamano, archeologi, se erano antiche. Ci entrava prima la sovrendendenza culturale. No, che ci entra dopo che hanno fatto i lavori. Anche perché adesso non si sa quando arriveranno e quindi non si sa quanto lo... Perché devono andare a richiedere queste pietre, devono cercare queste pietre. Non so se li trovano. E poi devono andare dai marmisti per poterli tagliare come dovere perché devono essere incastrati. Andiamo a dire al sindaco Ruvolo o a qualcun altro della Giunda? E questo è tutto. In relazione agli arresti eseguiti domenica 12 marzo a Gela dai poliziotti del commissariato intervenuti a seguito di una rissa presso un bar di Corso Vittoria Emanuele, il questore di Caltanissetta ha emesso tre misure di prevenzione dell'avviso orale nei confronti dei due arrestati. Il 27enne Emanuele Nicastro e il 23enne Rosario Nicosia e del terzo individuo, un 25enne, denunciato in stato di libertà. La misura amministrativa è stata motivata dal fatto che le condotte dei tre individui coinvolti nell'episodio in relazione alle modalità di tempo e di luogo hanno costituito pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, determinando un grave allarme sociale. Infatti, gli agenti giunti sul posto hanno registrato una situazione di estrema confusione con molti giovani presenti alla movida notturna in evidente stato di agitazione. I poliziotti hanno bloccato i tre individui colpiti oggi dalla misura di prevenzione, sequestrando anche una pistola a scacciacani, modificata e priva di tappo rosso, che assumeva caratteristiche intimidatorie. Tutti i momenti della rissa sono stati registrati dalle telecamere di videosorveglianza presenti. Per i giovani, il Tribunale di Gela, in composizione monocratica, nell'udienza del 13 marzo, ha applicato la pena su richiesta delle parti di due mesi di reclusione, con pena sospesa, nei confronti di Emanuele Nicastro e Rosario Nicosia per il reato di rissa. Per quanto riguarda le strisce blu, Caltanissetta, protagonista, ha preparato una proposta ad avanzare all'amministrazione comunale. Quale? Sì, è una proposta abbastanza semplice e dettagliata. Ci auguriamo proprio per questo che l'amministrazione la possa fare propria prima possibile. Noi parliamo ancora di strisce blu e, strapolando tra l'altro la parte del programma di Caltanissetta, protagonista, chiediamo al sindaco e all'amministrazione di rivedere un po' questo piano. Le strisce blu noi le intendiamo e vorremmo che l'amministrazione le intendesse solo e esclusivamente nei, diciamo, grandi parcheggi, cioè quello di Medaglia d'Oro, il parcheggio di Piazza Marconi e il parcheggio del Mercato Grazia. In altre due zone, per la verità, che sarebbero di fronte all'ufficio della posta centrale e al Tribunale. Nell'altra parte della città, dove esistono in questo momento strisce blu, le strisce blu le potremmo e vorremmo che fossero invece utilizzate con disco orario. Ricordo che il codice della strada parla di disco orario con un'ora e in realtà con pannelli integrativi il tutto può essere anche cambiato, quindi con 30 minuti o 15 minuti e questo sarà il comandante della Polizia Municipale a deciderlo. Perché questa proposta? Ovviamente nelle altre parti della città invece strisce bianche gratuitamente. Perché questa proposta? Perché ci rendiamo conto che specialmente in questo momento storico a Caltanissetta le condizioni economiche non sono floride. Proprio per questa ragione ci sembra che in questo momento sia vessare il cittadino con tutte queste strisce e con questo pagamento. Ci rendiamo conto, chi meglio di me può dirlo, che le strisce blu servono per un'organizzazione generale del traffico e il fatto di mettere immediatamente mano al piano unico di mobilità non può essere altro che aiutare l'amministrazione in tutte le altre scelte che riguarderanno la circolazione. Penso anche alla mobilità urbana, quindi alla stessa area pedonale e alla zona traffico limitato. Penso che invieremo immediatamente questa proposta all'amministrazione e speriamo che questa volta una proposta di Caltanissetta protagonista possa essere fatta dall'amministrazione ed esitata prima possibile. Chiedete anche che il servizio venga gestito direttamente dal comune? Sì, questa è una proposta che abbiamo valutato anche perché abbiamo controllato i bilanci, comunque gli introiti, chiamiamoli così, degli stalli con le strisce a pagamento. Non stiamo parlando di somme che sono così enormi da fare, chissà quali guadagni, anche perché ci siamo interrogati chiedendo appunto, posti come se noi fossimo gli amministratori, chiedendo ma noi prestiamo un servizio, facciamo un servizio al cittadino o facciamo business? Allora immaginiamo che l'amministrazione, anche l'amministrazione del rugolo, risponda pensando che è un servizio e non è altro e proprio per questa ragione potremmo avere un bando a breve che coinvolga delle cooperative, non per forza degli imprenditori e questo tutto a vantaggio dei cittadini perché la prerogativa di una cooperativa è quella di chiaramente avere il sostentamento dei dipendenti ma non di fare business, non di avere un target che sia appunto un guadagno. Ha preso finalmente il via, l'idea lanciata tramite un emendamento dal consigliere comunale Rino Bellavia. Sono stati acquistati dal comune dei premi e i ragazzi delle scuole superiori di Caltanissetta riempiranno un questionario e vinceranno questi premi. I questionari sono già stati distribuiti nelle varie scuole. In cosa consiste quindi questa iniziativa? Perché l'ha voluta fortemente? L'ho voluta fortemente perché penso che il parere dei nostri studenti, i quali rappresentano la classe dirigente del domani e hanno delle idee fresche, costruttive, propositive, nuove, innovative, debbono essere tenuti in debita considerazione. O meglio, delle azioni di politica giovanile ma non solo di politica giovanile, di politica che riguarda la nostra collettività si debbono basare sui voleri, sulle esigenze, sui bisogni, sulle proposte e sulle proteste dei cittadini. E gli alunni degli istituti superiori di Caltanissetta, soprattutto quelli di Caltanissetta stesse, rappresentano un bacino importantissimo, proprio di idee, di culture e di proponimenti. E allora si è pensato di fare un questionario di 30 domande che affrontano tutti i temi della vita in comune, della vita comunale, della vita della nostra collettività e tutte le problematiche. Parliamo di traffico, parliamo di attività di impresa, culturali, parliamo di ZTL, parliamo di servizi sociali, parliamo dei servizi del comune in generale. Quindi loro mi propongono, mi levano dei bisogni, delle esigenze, delle proteste. Parallelamente abbiamo fatto in modo che gli studenti fossero invogliati a presentare un'idea a progetto, un'idea da realizzare, che sia innovativa, che sia fattiva, che sia creativa ma soprattutto realizzabile. Per cui ho detto agli studenti non mi potete proporre la pista da sci al Redentore o una moschea dentro il comune. Dovete propormi qualcosa che avete visto da un'altra parte che si può realizzare da noi. Le migliori 10 idee verranno selezionate, le migliori 3 verranno premiate e verranno adottate dal comune. Per quanto possibile verranno realizzate dal comune. Quindi non solo i ragazzi riceveranno il premio in base alle migliori idee ma verranno anche realizzate le loro idee. Devono essere realizzate purché siano realizzabili. Ripeto, devono essere creative, innovative ma soprattutto realizzabili. E allora così noi acquisiamo un patrimonio importante di idee da parte di questa fetta della cittadinanza che devono ispirare le nostre politiche. Non solo quelle sociali, non solo quelle culturali, quelle sportive, ma anche quelle di politiche in generale per la nostra città. Questionarii sono già stati distribuiti quindi nei vari istituti scolastici. Quando verranno consegnati al comune? Abbiamo previsto di ritirarle entro la fine di aprile, in maniera tale che entro la fine dell'anno scolastico si possa procedere alla premiazione e poi intervenire in sede di bilancio per vedere un po' se c'è necessità di reperire fonti di finanziamento. Gianfranco Fuschi e Fabiano Lomonaco di Fratelli d'Italia dichiarano vogliono portare altri 1480 presunti profughi a Caltanissetta. Noi non ci stiamo. Ancora una volta Caltanissetta viene utilizzata come valvola di sfogo per piazzare quasi 1500 presunti profughi. Già la città è al collasso. I numeri della prefettura parlano di migliaia di presunti richiedenti asilo sul territorio. Il sindaco in tempi recenti aveva parlato di una riduzione del numero in termini accettabili. Invece nulla è stato fatto in questa direzione, anzi è sempre più forte il tam tam cittadino sui luoghi, anche di proprietà pubblica, dove si pensa di allocare centinaia di presunti profughi. È chiaro che un così alto numero di presunti richiedenti asilo renderà ancora più difficile ogni rapporto con la città, che non è in grado di sostenere né in termini di servizi né in termini di sicurezza questo assurdo, ulteriore, condincente. Peraltro come si evince dalla direttiva ministeriale non c'è alcuna proporzione con gli altri capoluoghi siciliani. Noi chiediamo che vengano rispettati i parametri previsti, 2,5 profughi ogni 1000 abitanti, che nessuna struttura di proprietà pubblica venga sottratta in issemi, che il sindaco si attivi immediatamente e senza tentennamenti per chiedere il rispetto degli accordi. Invitiamo sin da adesso i cittadini a mobilitarsi, a segnalarci strutture pubbliche e private, condomini e locali dove i soliti noti stanno mettendo mano per ospitare i presunti profughi. L'esperienza della recente battaglia vinta in difesa degli spazi dei ragazzi nisseni insegna che con la mobilitazione di tutti si può fermare il degrado in città. Calta Nissetta non può diventare un enorme campo profughi. Il regista nisseno, regista e attore Tony Gangitano, sta preparando un nuovo cortometraggio. Questa volta verrà valorizzato il centro storico di Calta Nissetta. È la prima volta che si occupa della sua città? In realtà sì, per quanto riguarda il cinema sì. Ho presentato diversi progetti in passato, anche un mio corto ha vinto in una selezione, qualcosa di molto bello, che parlava del no alcol. Questa volta invece vorrei dedicarmi un po' a tutto questo centro, questo meraviglioso posto, perché più cammino e più cerco di capire in realtà perché la nostra città non deve essere rivalutata in tutto e per tutto, anche nel frangente, fra virgolette, cinema. Beh, voglio fare qualcosa. Se i commercianti sono con me, visto che questi ragazzi sono sempre volenterosi, tutto questo pezzo della piazza lo vorrei far partecipare a un corto bellissimo che valorizza sia il posto che anche una piaga che in questo momento ci sta tanto, tanto, tanto attanagliando, che sarebbe la piaga della violenza sui minori. Una cosa molto delicata, una sceneggiatura già pronta, scritta da me, portata avanti e anche da mio fratello Fabio, che è quello il quale si occupa sia della storia in realtà e che delle musiche. Il tuo film, il tuo ultimo film, Un santo senza parole, ha riscosso notevole successo. Non solo è stato proiettato in diverse sale cinematografiche, un successo non solo in Sicilia ma anche fuori. Tra l'altro è un film che è uscito fuori da una storia personale. Sì, abbastanza. Questo è stato il mio primo bambino. Io lo battezzo così perché il mio primo lungometraggio è andato benissimo. Benissimo non parlo economicamente, io parlo benissimo per quello che è stato il riscontro con le sale cinematografiche, con la gente e con soprattutto le persone che mi hanno elogiato per essersi tanto emozionati. Questa è la cosa principale. È un film che è andato in 38 sale siciliane, è un film che praticamente è andato in Vaticano. Le guardie svizzere lo hanno voluto, glielo ho portato con tutta la mia equipe, abbiamo fatto una bella visione. È un film che è andato bene. Abbiamo stampato anche tantissimi DVD che sono ancora in giro in vendita e incrociando le dita il film sarà venduto presto in TV. La cosa principale era questa, quella che ci aspettavamo, di andare avanti e portare il primo mio lavoro avanti perché è chiaro, non era per me il valore economico che contava, ma salire un po' sul podio non della grandezza ma sul podio dell'umiltà con questo film che ha parlato di San Felice da Nicosia che si avvicina tantissimo alla mia storia, come dicevi tu, all'inizio, alla mia storia vera di vita che nel 2014 è accaduta. Poi magari avremo tempo di poter raccontare tutto in altri momenti perché è molto lunga, però questo si avvicina tanto al fatto che ho deciso di firmare la regia sul film che adesso il titolo esiste perché c'è un santo senza parole. Una delegazione della Real Maestranza di Caltanissetta sarà presente nella città di Trapani domani venerdì 24 marzo in occasione della scinnuta dei misteri. A guidarla Calogero Castelli, capitano della Real Maestranza 2016, categoria Falegnami e Bannisti. Roberto Nicosia Scudiero, Massimiliano Bella Portabandiera, Gaetano Doca Portabandiera Storica, Angelo Giuffrì d'Alfiere Maggiore, Gaetano Villanucci, presidente Real Maestranza, Aldo Buscemi, Gianluca Taibi, Salvatore Di Mauro, componenti consiglio direttivo, Angelo Iannello, Roberto Di Dio, Pasquale Tramontana, Ceto Calzolai, Michele Simone e Salvatore Ciotta, capitani emeriti, Filippo Aleo segretario, il neo capitano della Real Maestranza, Ceto Carpentieri Ferraioli, Giuseppe Tuminelli del 2017 e il gran cerimoniere Gianni Taibi. Le due maestranze gemellate nell'anno giubilare 2000 continuano fraternamente a condividere religiosità, passione e cultura dei mestieri e delle arti. Attualmente ha lo studio un percorso siciliano che potrà mettere in rete i riti e le processioni più importanti che rivivono durante la settimana santa nella nostra isola, quale volano anche di promozione dell'artigianato artistico e tradizionale dei prodotti enogastronomici. L'associazione Riti e Passione, giovani per la settimana santa, nata nel 2015 su iniziativa di giovani appassionati e cultori della settimana santa di Caltanissetta, ha promosso una nuova iniziativa. L'allestimento di alcune vetrine, gentilmente concesse dai proprietari delle singole attività commerciali, site lungo il centro storico di Caltanissetta, attraverso le quali vengono esposti i vari abiti processionali, i simboli e gli oggetti storici delle varie processioni. Ad arricchire le vetrine i poster fotografici del fotoreporter Nisseno Umberto Ruvolo, ideatore insieme all'associazione Riti e Passione, del video promozionale della settimana santa Nissena che sta spopolando nei social e nel web. Ad ogni singola processione è dedicata una vetrina. L'esposizione è visibile al pubblico dal 20 marzo al 16 aprile 2017. È possibile ammirare le seguenti vetrine. Processione Gesù Nazareno, Domenica delle Palme, negozio Nicosia, Corso Vittorio Emanuele, rappresentazioni sacre del lunedì e martedì santo, gruttadauri abbigliamento, Corso Vittorio Emanuele, corteo della Real Mestranza, mercoledì santo mattina, farmacia, conte, dottoressa romano, Vittorio Emanuele, piccoli gruppi sacri, varicede, mercoledì santo sera, profumeria greco, Corso Vittorio Emanuele, solenne processione del Santissimo Crocifisso, Signore della città, venerdì santo, caffè impero, Corso Umberto I. L'iniziativa è svolta con il patrocinio gratuito del comune di Caltanissetta e della Proloco. Inoltre si vuole ringraziare per la collaborazione l'Associazione Gesù Nazareno, l'Associazione Teatro della Parola ai nuovi discepoli, l'Associazione Real Mestranza, piccoli gruppi sacri, giovedì santo e fogli amari e devoti del Santissimo Crocifisso, Signore della città. L'Associazione Real Mestranza, piccoli gruppi sacri, giovedì santo e fogli amare e l'Associazione Real Mestranza, piccoli gruppi sacri. Grazie. 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 Grazie.